Eccoci qua ragazzi e ragazze, ben ritrovati a tutti sul canale di Barba Rosso Nera. Io sono Larry, è sempre un grande piacere. Permette? Loris Batacchi. Blah blah blah. Ma che fa? Scusi. È il bacio a mano. Saluto anche gli amici di AC Milan Inside, questo è il secondo video in collaborazione con loro. Oggi andremo a parlare sempre di mercato, nello specifico questa volta parleremo dei centrocampisti e del famoso filtro a centrocampo che ci è tanto mancato nella scorsa stagione, dove si parlava anche di moduli 5-0-5, come a voler far esaltare che la squadra fosse sempre spaccata in due tra attacco e difesa. Ecco, proprio per questo motivo penso che il Milan sul mercato almeno un colpo lo piazzerà anche in questo reparto, se non due. Perché studiando il modo di giocare di Fonseca ho capito come a lui piace giocare con due mediani puri e quindi vedremo se arriverà un mediano dal mercato e come compagno di reparto gli verrà piazzato magari uno come Ben Asser o uno come Musa che lo sta facendo in questo momento con gli Stati Uniti. Perché penso che vedere il Renders in quella posizione, dopo averlo visto come sta giocando libero di svariare con l'Olanda, sarebbe un sacrificio veramente grosso. A mio modo di vedere il Milan un mediano quasi sicuramente lo prenderà, dopo aver preso la prima punta che è la priorità essenziale di questo mercato. Poi si penserà al mediano e poi credo che si potranno valutare anche delle opportunità di mercato, magari verso la fine, sempre prendendo magari un altro mediano in prestito. Oppure queste opportunità arriveranno anche dai parametri zero, ce ne sono tanti a centrocampo quest'anno molto interessanti. Ma iniziamo a parlare di chi c'è a centrocampo. Io penso che alla luce degli investimenti fatti lo scorso anno, soprattutto sulla tre quarti, quindi con i vari Chukwe, Zeloftuschik, Pulisic, Okafor, e voglio metterci anche Renders, e aggiungendoci anche Musa, che non è propriamente un trequartista, però è stato comprato sempre da questa dirigenza nella scorsa finestra di mercato, direi che questi giocatori sono abbastanza sicuri di rimanere. Poi ci sono due giocatori come Benasser e Leao che sono stati accostati all'Arabia Saudita. Benasser ha il rebus su di lui di aver avuto un grave infortunio, e quindi non possiamo sapere quanto questo infortunio possa incidere in futuro nella sua carriera. Però diciamo che in alcune partite si è visto alcuni sprazzi di Benasser. Detto questo, se dovesse arrivare un'importante offerta dall'Arabia Saudita, magari il Milan ci farebbe anche un pensiero. Discorso diverso per Leao, sempre fra alti e bassi. In questo europeo non sta ancora ingranando. Ha preso due gialli per simulazione. Quando fa male l'agogna mediatica è sempre abbastanza impiettosa su di lui. Però sono arrivate le parole di Fonseca, che è andato proprio a trovarlo, dicendogli che il Milan ripartirà da lui. Ecco, c'è sempre la famosa clausola recissoria da 175 milioni. Se un club arabo arrivasse con una cifra del genere, e non sappiamo quanto darebbero al giocatore stesso, lì starebbe solamente a lui decidere. Il mio parere personale su di lui, per quello che ha fatto nel Milan, io veramente lo adoro tantissimo. Sono sempre pronto a scusarlo e penso che sia veramente un talento incredibile. Mi piacerebbe vederlo crescere molto a livello di testa e di continuità. Questo è certo. Quindi quelli con la valigia in mano dovrebbero essere Pobega e Adelì. E Salema Kers. Ecco, andiamo a vedere nel dettaglio quali potrebbero essere gli obiettivi di mercato in questa posizione. Il primo giocatore che vi voglio portare era un nome caldo a inizio del mercato. Talmente caldo che Fabregas, l'allenatore del Como ne ho promosso, ha come spoilerato il Milan come sua nuova destinazione nella prossima stagione. Sto parlando di Yusuf Fofana, centrocampista del Monaco, molto strutturato. In questo momento è impegnato agli europei con la Francia. E potrebbe essere quel giocatore alla Chessi che ci è tanto mancato negli ultimi due anni. Ma quindi andiamo ad analizzare i pro e i contro di Fofana. I pro sicuramente sono che, come abbiamo detto, è un giocatore molto strutturato, ha un'importante esperienza internazionale, i buoni rapporti di Moncada o Moncada con il Monaco potrebbero agevolare questa trattativa, è il profilo di un giocatore che ci manca completamente nella nostra rosa, è un giocatore molto di posizione che potrebbe farci comodo. Di contro abbiamo solamente l'interesse di alcune squadre di Premier League che, data la maggior potenza economica della Premier stessa, potrebbero accontentare di più a livello economico sia lui che il Monaco. Però è un giocatore che a me, comunque, non dispiacerebbe avere in rosa. Se ci mettiamo anche il fatto che voci di corridoio dicono che ha già un accordo con il Monaco per partire a un certo prezzo vista la scadenza di contratto il prossimo anno, nel 2025, potrebbe essere un'operazione davvero molto interessante per il Milan. Un altro giocatore che ha la scadenza di contratto nel 2025 e ha un po' le caratteristiche di Fofanà, anzi, forse è un mediano ancora più puro, è Sofien Amrabat, il giocatore della Fiorentina che sta rientrando dal prestito al Manchester United. Non ha brillato, come tutto il Manchester United del resto, visto che non si sono nemmeno qualificati per la Champions League l'anno prossimo. Il fatto che se ne sia andato da Firenze non lasciando buoni rapporti lo rende un giocatore di fatto con la valigia in mano un'altra volta. Il Milan ha provato a instaurare una trattativa proponendo uno scambio con Pobega. Fiorentina però si dice non interessata perché vorrebbe monetizzare con la cessione di Amrabat, però magari verso la fine del mercato potrebbe essere un'occasione da non farsi sfuggire. Quindi nei pro possiamo mettere sicuramente che è un giocatore che ci serve, è un mediano, ha grande fisicità, è molto forte a intercettare le linee di passaggio. Ho notato che Fonseca non fa un pressing ossessivo, ma gli piace molto che i suoi giocatori si mettano fra le linee di passaggio, recuperando il pallone in questa maniera. E lui in questo senso ha delle caratteristiche importanti. Detta abbastanza bene anche i tempi di gioco, non è uno che verticalizza molto, però negli scambi a centrocampo è quello che si direbbe un metronomo, e anche questa caratteristica potrebbe far comodo al Milan di Fonseca. All'allenatore portoghese piace molto tenere il pallone, fare possesso palla, avere sempre il pallino del gioco in mano. Di conto possiamo dire che è un giocatore che non ha trovato molta fortuna al Manchester United, ha trovato molte difficoltà, è stato così anche a Firenze, ha vissuto sempre periodi di alti e bassi. Ha vissuto un momento d'oro nel mondiale scorso con il Marocco, dove ha fatto una competizione eccellente lui insieme a tutta la sua squadra, e il fatto che la Fiorentina voglia tentare di monetizzare, nonostante sia un separato in casa. Però credo che potrebbe essere comunque una bella wild card da farci più di un pensiero per il Milan. Una cosa che mi stavo dimenticando di dirvi del nazionale marocchino, ma che è molto importante, è che ha anche passaporto comunitario, perché è nato in Olanda, quindi ha doppio passaporto, marocchino e olandese, e quindi non occuperebbe uno slot da extra comunitario, che comunque è una cosa importante in sede di mercato. Continuando sulla strada delle scadenze di contratto nel 2025, troviamo Oibierg, giocatore del Tottenham, impegnato in questo momento negli europei con la Danimarca. Un giocatore che a me piace molto. Il classico mediano da campionato inglese. Bello ruvido, deciso sull'uomo, con molta grinta. Di quei centrocampisti che mettono tutto quello che hanno in campo. Una cosa che al Milan dell'anno scorso è mancata tantissimo. Di mettere quella garra, quella voglia di mangiare il pallone e di dominare gli avversari a centrocampo. Sicuramente anche il carattere potrebbe essere uno dei pro per questo giocatore. È un grande equilibratore di quelli che ti trasformano anche l'azione da difensiva in offensiva quando recuperano palla. Anche lui, come i due profili che abbiamo analizzato prima, Amrabat e Fofanà, è in quella fascia d'età, tra i 27 e i 28 anni, che comunque ne fanno un giocatore maturo. Di contro non ci vedo chissà che cosa. Anche lui quest'anno ha fatto fatica con il Tottenham, non ha avuto una gran continuità. Però vedendolo dagli europei come sta giocando, sempre con quella grinta che lo contraddistingue, a me in questo momento, vista la necessità che abbiamo a centrocampo, viene davvero difficile trovargli un contro a questo giocatore. Il prossimo giocatore che vi voglio portare è un nome caldo delle ultime ore. Sto parlando di Mats Wiffer. Se ne parla molto di lui. È un nazionale olandese, è giovane, ha 24 anni. È un giocatore forte, di prospettiva. Se ne parla un gran bene in Olanda, ha fatto bene col Feyenoord. È un equilibratore. È scuola olandese, quindi sa gestire il pallone. Il costo dell'operazione dicono che si aggira intorno ai 20 milioni. Può essere veramente un buon colpo, anche in prospettiva futura. Però in questo particolare mercato, in questa particolare situazione in cui si trova il Milan, che è anche dichiarato da Ibrahimovic in conferenza stampa, il Milan sarà una delle squadre più giovani della prossima Serie A. Ecco, nel caso di Wiffer mi sento di dire che magari la giovanità potrebbe essere anche un contro. Perché in quel ruolo, per il Milan in questo momento, magari vorrei un giocatore più maturo. Come i tre citati prima. Stiamo parlando comunque di un bel mediano. Però diciamo che preferirei qualcuno con un po' più di esperienza. Il profilo completamente diverso a livello di esperienza internazionale è il prossimo che vi porto. Sto parlando di Adrien Rabiot. La mezzala francese direi che non ha tanto bisogno di presentazioni. I pro di questo giocatore sono che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. È bravo con i piedi, è fisico, è intensità, un'intelligenza tattica veramente importante. Si è già misurato nel nostro campionato e ad altissimi livelli. Quindi non c'è bisogno che vi faccia trovo presentazioni per Rabiot. I contro quali possono essere? Ovviamente la solita cantilena di mercato che si andrebbe a creare attorno alle commissioni che vuole l'agente procuratore di questo giocatore, sua madre. Sua madre è famosa per chiedere altissime commissioni. È un personaggio non facilissimo da gestire. Oltre alle commissioni, ovviamente ha anche un ingaggio importante. Un ingaggio che si merita, sicuramente. Però mi farebbe veramente strano se il Milan andasse su questo giocatore. Il visto i problemi che si è sempre fatta la società per certi tipi di profili e per certi ingaggi. Forse non è nemmeno il mediano che stiamo cercando. Però, detto questo, se arrivasse non ne sarei scontento assolutamente. Anzi, sarei molto contento perché è un giocatore che ha un peso specifico enorme. L'ultimo giocatore che vi voglio portare è Sandro Tonali. Vibra, di testa, Tonali, gol! Sandro! Meritato! Sandro! Goal! Goal! Velo meritato ai nostri tifosi! Sandro! Sandro! Bene. Vogliamo stare a elencare i pro? I pro sono che è Sandro Tonali. Un altro pro è che è Sandrino Nostro. Un altro pro è che ha il cuore rosso-nero. Un altro pro è che è un giocatore che ci è mancato tantissimo. Un altro pro è che è italiano. Poi che cosa vogliamo dire? A livello di giocatore ci ha fatto impazzire tutti. Cioè, vogliamo veramente discutere sui pro e contro di un ritorno di Sandro Tonali? Come contro potresti avere l'incognita che è stato fermo un anno. Ma chi se ne frega? È Sandro Tonali che torna a casa. Cioè, di cosa stiamo parlando? Mamma mia. Sarebbe troppo bello. Lì l'unica cosa da vedere è la fattibilità dell'operazione. Se venga proposto uno scambio con Tomori, comunque sì, perderemo forse uno dei nostri migliori centrali difensivi, però nelle casse l'anno scorso Tonali ci ha portato 80 milioni e starebbe già tornando a casa. Sarebbe qualcosa di clamoroso. Veramente, non ci vedrei un difetto. Sarebbe furto con scasso se tornasse. Però sarebbe maledettamente bello. Detto questo, amici, l'analisi sui centrocampisti accostati al Milan come obiettivi di mercato finisce qua. Diciamo che gli obiettivi di mercato in questo reparto non mi dispiacciono per niente. L'unica cosa che mi sento di consigliare al Milan, se posso, è che ci farebbe veramente comodo un giocatore già con esperienza, di caratura internazionale. Non la solita scommessa da vincere. Non il solito prospetto su cui lavorare. Qualcuno con del carattere che ci faccia salire di livello in mezzo al campo. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sto facendo l'errore che fanno tutti i creator all'inizio, ossia chiedere il like e l'iscrizione alla fine. Se siete rimasti con me fino alla fine vuol dire che il video vi è piaciuto, quindi mi raccomando il like, iscrivetevi al canale che mi aiutate tantissimo a supportare questo progetto. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio, vi mando un abbraccio e mi raccomando, sempre Milan!